Secondo lei è sbagliato fare un confronto con Pesaro? Ma sì, secondo me assolutamente sì. Pesaro ha fatto un buonissimo lavoro quest'anno, bisogna fargli i complimenti, ma così come l'ha fatto il nostro territorio, perché Candelara sta andando alla grande, Monbaroccio uguale, Urbino ha tantissimi visitatori, quindi un territorio che si esprime bene, assolutamente bene col Natale. Non a caso viene fuori questa cosa che il Consiglio regionale ha approvato anche il periodo natalizio nel piano regionale del turismo, triennale, quindi è una cosa che sicuramente nei prossimi anni crescerà e noi a Fano abbiamo fatto una scelta sicuramente importante, diversa dal resto del territorio, perché secondo me anche andare a copiare cose che fanno gli altri non va assolutamente bene, bisogna dare delle alternative, bisogna fare in modo che il turista che arriva qui nella nostra provincia possa godere di tutte le bellezze del nostro territorio e qui a Fano l'abbiamo caratterizzata con questo albero che voglio ricordare nasce da fanesi, è costruito da ditte fanesi, quindi ha fanno nel cuore e esprime fanno nell'immagine, quindi secondo me è un prodotto che secondo me piacerà anche ai fanesi. Tra l'altro sta andando a ruba anche questo alberello in miniatura? Sta andando a ruba e per curiosità direi che le telefonate di questi giorni vengono anche dal nostro territorio, che sono molto curiosi e che quindi vogliono vederlo, va a ruba ma ad oggi tra piccolissimi e più grandi ne abbiamo fatti produrre circa 1700-1800 e quindi veramente importanti, molti ci chiedono ma dove lo trovano? E allora lo voglio chiarire, gli alberelli si prenotano in questo momento perché non riusciamo a produrli e si prenotano agli uffici di confcommercio o confesercenti o nell'ufficio della Proloco di Fano. Anche qui in piazza Fano se venite c'è il caffè Aurora che è disponibile per le prenotazioni, appena disponibili verrete chiamati e quindi vi verrà consegnato l'albero per questo Natale. L'albero è quasi completo, che cosa manca? Sicuramente manca l'illuminazione, l'illuminazione che sarà anche quella un tocco importante per questa struttura, mancheranno dei pacchi natalizi che andranno appunto a finire l'albero, una bella mochetta a terra. A parte questo mancheranno altre cose che però non svegliamo, lasciamo un attimo di suspense perché domenica 6 qui in piazza dall'ora 18 ci sarà una bella inaugurazione del Natale a Fano che non vuole dare risalto soltanto all'albero ma tutto ciò che sarà da contorno poi a quest'albero perché avremo una città che vive con manifestazioni, eventi, con le particolarità della città che sono storiche, artistiche, sono il pregepe di San Marco e tutto ciò che ne fa da contorno.